salve a tutti oggi voglio realizzare un generatore di alta tensione ma che cos'è un generatore di alta tensione è un dispositivo che tramite il suo funzionamento riesce a trasformare una bassa tensione di ingresso in un'alta tensione di uscita questo dispositivo può essere costruito attraverso dei circuiti elettronici o come nel nostro caso attraverso un trasformatore oppure anche con un'unione di questi due per realizzare il generatore di alta tensione andrò ad utilizzare un trasformatore di microonde che come vediamo qui riceve in ingresso una 230 volt e ha in uscita una 2300 volt quindi al suo interno è costituito con un rapporto spire di 1 a 10 inoltre il trasformatore da microonde riesce a trasferire una potenza di circa un kilowatt quindi è il candidato ideale per questo tipo di applicazione e il circuito elettrico che intendo realizzare è il seguente ovvero il nostro generatore avrà un ingresso connesso alla 230 volt e tre uscite ovvero quella diretta in collegamento col secondario quindi un'uscita a 2300 volt alternata dopodiché metterò un circuitino di raddrizzazione quindi un ponte a di odi con condensatore di rettifica che avrà un uscita di 3200 volt dc e poi un altro circuitino di rettifica messo in configurazione duplicatore di tensione in modo che la nostra uscita fra questo terminale e questo terminale sarà di ben 6400 volt dc gli unici componenti presenti nel circuito sono diodi e condensatori il part number dei diodi che andrò ad utilizzare sarà l'r3000 ovvero un diodo capace di reggere fino a 3000 volt e che riesce a far passare una corrente di 100 miliampere mentre per quando riguarda i condensatori utilizzerò dei condensatori ceramici che riescono a reggere fino a una tensione di 4 kilovolt la realizzazione pratica di questo circuito però non è per niente banale infatti siamo nel range delle alte tensioni e quindi bisogna avere alcune accortezze pratiche per non rischiare di trovarsi delle brutte sorprese in quanto alle alte tensioni ci sono fenomeni di tipo elettrico come l'effetto punta o generazione spontanea dell'arco che ovviamente bisogna tenere in considerazione quindi questo circuito non può essere assolutamente messo su una PCB 1000 fori come questa qui in quanto se ci fate caso la parte di sotto è tutta rivestita di metallo e lo spazio fra i pin non è assolutamente sufficiente a garantire l'isolamento elettrico del circuito quindi dovrò utilizzare una tecnica alternativa per realizzarlo il tutto poi verrà messo all'interno di una scatola di legno per garantire l'isolamento e soprattutto per evitare che l'utente quindi io venga accidentalmente a contatto con le parti elettriche quindi adesso non mi resta che iniziare la costruzione del generatore ho quasi ultimato la costruzione del generatore ho già inserito il tutto dentro una scatola di legno e diamo uno sguardo a quello che ho fatto in pratica qui abbiamo l'uscita del trasformatore a microonde questa è una fase collegata a questo ramo del circuito mentre l'altra fase me la vado a prendere dalla sua cassa quindi dal nucleo del trasformatore possiamo vedere come ho realizzato il circuito questa è la tecnica migliore che riesco a fare al momento ovvero ho avvitato delle viti nella tavola di legno che corrispondono ai nodi del circuito dopodiché sono andato a effettuare dei collegamenti elettrici con i fili del doppino telefonico quindi in questo modo si riesce a garantire una sufficiente distanza per per evitare che possano accadere fenomeni di innesco dell'arco all'interno del circuito e qui vediamo i condensatori si può leggere questo è di 4kV e anche questi qui sono di 4kV ovviamente essendo di queste tensioni così alte il valore molto molto basso sono entrambi da questi due da 2.2 nano e questo da 4.7 nano inoltre in parallelo ai condensatori ho poi deciso di montare delle resistenze molto molto grandi sull'ordine dei 10 mega ohm in modo da consentirne la scarica dopo che il generatore viene staccato dall'alimentazione altrimenti c'è il rischio che se restano carichi andando a toccare poi il connettore di uscita si prende una bella scossa anche perché nonostante siano così piccoli queste capacità caricate a quella tensione in realtà buttano fuori una bella energia molto bene finisco di chiudere la scatola ho ultimato la costruzione del generatore di alta tensione e adesso l'unica cosa che ci resta da fare è qualche test ovvero andremo a creare qualche arco voltaico quindi andrò ad utilizzare l'uscita AC del nostro generatore e andrò a collegare una delle due fasi alla terra di casa infatti il segreto per andare a creare archi voltaici molto energici è quella di mettere una di queste due uscite a massa quindi banalmente appunto alla terra di casa ecco qui ho effettuato i collegamenti per il test abbiamo la presa appunto i tre fili dove la fase e il neutro arrivano in ingresso al generatore mentre la terra è connessa ad una fase di uscita precisamente quella connessa poi al case metallico del trasformatore e con questo coccodrillo ho connesso poi la fase dove c'è la terra a questa piastra metallica mentre l'altra fase è connessa qui a questo pezzo di legno dove all'estremità c'è un chiodo ed è abbastanza lungo in modo che possa lavorare in sicurezza quindi adesso andiamo ad accendere il generatore e facciamo qualche arco voltaico ovviamente ultima precisazione sia la base metallica che il pezzo metallico con cui si andrà poi a fare l'effetto punta devono essere in ferro perché se fosse di qualche altro materiale come rame o alluminio a causa della forte energia erogata potrebbero anzi quasi sicuramente si fondono non 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 ecco qui i risultati dell'arco voltaico abbiamo che il chiodo si è fuso in pratica non c'è più la testa e si vedono anche gli effetti dell'alta temperatura infatti ha cambiato colore la parte sotto la testa mentre la lamiera si è bucata si vedono chiaramente dove ci sono stati i punti di contatto dell'arco molto bene quindi come abbiamo visto il generatore di alta tensione funziona perfettamente ma prima di concludere il video voglio fare le ultime due precisazioni la prima è che questo dispositivo non è fatto per essere maneggiato quindi quando intendiamo usarlo lo posizioniamo nella sua posizione che abbiamo scelto sistemiamo tutto dopodiché diamo corrente e ci allontaniamo se vogliamo riavvicinarci a lui dobbiamo necessariamente staccare l'alimentazione perché la pericolosità quando è attivo è davvero troppo elevata la seconda precisazione è che quando vi vorrete anche voi divertire a fare gli archi voltaici questi non vanno assolutamente osservati non vanno assolutamente guardati infatti quando sono così energici come quelli che ho prodotto io oggi beh sono una forte emissione di raggi ultravioletti un'emissione molto molto superiore rispetto alle saldatrici ad arco che si vedono normalmente utilizzare in quanto mentre le saldatrici lavorano a bassa tensione questo generatore produce degli archi ad alta tensione quindi l'energia dei raggi ultravioletti emessi è di molto superiore molto bene per questo video è tutto alla prossima